Ciao a tutti amici del Capricorno, benvenuti se siete nuovi e bentornati se mi seguite da un po'. Io sono Ilaria e su questo canale parlerò di tarocchi, chakra, spiritualità e quant'altro possa essere d'aiuto ad ognuno di noi per il proprio percorso di crescita personale e spirituale. Bene, questa vuole essere una lettura di approfondimento rispetto alla lettura generale che ho già pubblicato. Quindi avevamo quattro linee, io andrò a spiegare nello specifico le prime tre. Quindi ci sarà un video per la parte spirituale che è questo, un video per la parte dell'amore e delle relazioni e un altro video poi sarà per la parte del lavoro e dell'economia. Ho ripreso quindi le stesse carte per riavere la stessa energia. Abbiamo il Papa come energia generale, dopodiché abbiamo un otto di coppe, la carta della giustizia, il fante di spade, il nove di coppe e la regina di pentacoli. Come sempre vi ricordo che le letture sono di carattere generale, sono fatte per un collettivo, quindi è facile che non risuoni tutto. Voi prendete quello che vi serve e lasciate andare il resto all'universo. Se proprio non dovesse risuonare nulla o se per caso volete completare il vostro messaggio, vi consiglio di ascoltare anche l'ascendente, il segno lunare o venere. Per chi volesse contattarmi poi trova il mio indirizzo email sotto nella descrizione del video. Allora, partiamo con questo otto di coppe. Qui si tratta di fare un certo tipo di lavoro spirituale, visto che comunque abbiamo anche il Papa come carta, diciamo, tema. e si parla di entrare in contatto con se stessi. Si tratta di andare a capire di che tipo di supporto emotivo avete bisogno in questo momento, perché l'otto di coppe parla di qualcuno che va alla ricerca di qualcosa per colmare un vuoto. Quindi qui si tratta di andare a scavare a fondo in questo senso e la giustizia qui arriva un po' come giustizia divina. Guardate, la giustizia io la sento molto collegata con la legge di compensazione, ok? Quindi in un certo senso arriva per riportare in equilibrio. Nel senso che se qui c'è qualcuno a cui è stato tolto qualche cosa o non è stato dato qualche cosa, vi dico che nella prima parte del 2023 arriva la legge di compensazione. Diciamo così. Tanto vi è stato tolto, tanto vi arriva. E qui lo vedo perché abbiamo un 9 di coppe che è la carta del sogno compiuto. Per qualcuno si può trattare di qualche tipo di riconoscimento a livello di se stessi, cioè darsi un nuovo tipo di valore o comunque il Papa è sempre associato alla spiritualità. Quindi magari per qualcuno si tratta di intraprendere un nuovo tipo di percorso spirituale o si potrebbe trattare di una nuova guida che seguirete. Avete anche un fante di spade. Il fante di spade parla di nuovi studi, infatti in questo mazzo si vede molto bene perché è al libro. Si parla di qualcuno che ha altri ideali, che è una persona che, come vi posso dire, c'è questa sorta di entusiasmo per questo nuovo tipo di approccio, se vogliamo, o percorso di studi o approccio alla vita o approccio a come voi, non lo so, magari reagite a determinate situazioni o probabilmente se si tratta di un progetto, qui si sta andando a fondo, c'è qualche cosa che vi, come vi posso dire, vi esorta ad approfondire un qualche tipo di tema, qualche tipo di discorso. Abbiamo poi, come vi dicevo, la carta del nome di coppe, che è la carta del sogno compiuto. È una carta di appagamento, è una carta che aumenta la gratificazione proprio per la presa di consapevolezza. E' un po' un rendersi conto, andando a fondo di una determinata situazione, che può essere questa situazione interna di cui vi dicevo questo vuoto che voi sentite, vi renderete conto che in realtà, come vi posso spiegare, come dicono i buddhisti, è tutto perfetto così com'è sempre. Quindi, in un certo senso, anche se voi avete vissuto questo tipo di vuoto, magari anche familiare, perché può essere che ci sia stata una sorta di carenza da un punto di vista dell'affetto familiare, della presenza, o anche semplicemente dell'accompagnamento da un punto di vista spirituale, di qualcuno che vi indrizzasse in un certo modo. Sento che comunque, guardate, con questo 9 di coppe arriva quello che è una presa di consapevolezza, quello che è, mi verrebbe da dire, una fase di respiro. Abbiamo anche la giustizia, e vi ricordo. C'è anche poi la regina di pentacoli, qui fa riferimento o a una vostra attitudine, quindi, non lo so, è un po' come se avesse l'energia tanto in alto, poco in basso, tanto nella sfera emotiva e c'è un po' da riportare i piedi per terra, diciamo, con questa regina di pentacoli. Non che ci sia un imprevisto o cose di questo genere, però è un po' come se ci fossero dei momenti nella vostra vita che vi porteranno, insomma, a ritornare un po' più in giù rispetto all'energia del Papa. Andiamo a vedere carta per carta. Andiamo a spiegare l'otto di coppe per piacere, grazie. È spiegato da un dieci di coppe al contrario e da un sei di coppe. Credo che sì, è un po' quello che dicevo prima, no? Qualcuno ha sentito una sorta di vuoto a livello familiare, infatti vediamo il dieci di coppe qui che è al contrario. È un vuoto che probabilmente risale all'infanzia, come già vi ho accennato prima. Può essere anche un vuoto che sia da parte di un componente della famiglia, non necessariamente da parte di tutta la famiglia, ok? Però sicuramente è un vuoto che sentite da molto tempo. Andiamo avanti con la giustizia. Abbiamo il matto e il matto è un arcano numero zero e quindi parla di cicli che si chiudono e di cicli che si aprono. Guardate, un ciclo si chiude sotto una bilancia, diciamo sotto un piatto della bilancia, e l'altro si apre. Matto è il mago. Sì, ragazzi, nuovi inizi, nuovi impulsi, nuovo modo di manifestare la vostra realtà. sento entusiasmo, sento un progetto che diventa realtà. Qui lo vediamo, eh. Andiamo avanti, vediamo questo fante di spade. Abbiamo una regina di denari nuovamente, un otto di coppe nuovamente, e un asso di bastoni. Ragazzi, per qualcuno potrebbe essere, vedendo queste carte qui, e che sono incrociate comunque, una all'inizio e l'altra alla fine della lettura, esattamente, cioè proprio, ci sono cinque carte alla metà, e poi c'è anche un asso di bastoni. Io ho come l'impressione che qui qualcuno potrebbe anche decidere iniziare così a concepire l'idea di lasciare un determinato gruppo, un determinato ambiente, può anche essere di lavoro, ma credo soprattutto familiare, perché comunque abbiamo carte di coppe, per andare verso questa regina di denari. Qui, o potrebbe essere per allontanarsi da questa regina di denari, perché se li vedo così, c'è la regina di denari, è la persona che va dall'altra parte. Dipende chi è per voi la regina di denari, scrivetemi poi nei commenti, se è una persona, se è un'attitudine, perché qui si sta studiando come fare il movimento, quando c'è l'asso, e qui avete di nuovo due arcani maggiori che sono molto potenti come energia, è un asso di bastoni, è l'inizio, l'azione, l'intenzione, quel movimento fatto con passione, anche l'impulso, l'impeto alle volte. Quindi qui in un certo senso qualcuno si sta buttando in quello che è, è come se ci fosse il richiamo ad andare ad un livello superiore con la carta del Papa, e qui state studiando fondamentalmente come fare. Andiamo a vedere 9 di coppe. Abbiamo un 7 di bastoni, al contrario. No, queste sono troppe. Ancora una per più, grazie. Wow, la forza! Sì, ragazzi, guardate, il fatto che non siate più da soli lo rivedo qui con la giustizia, perché qui si parla di giustizia divina, anche quando c'è il Papa si parla di un appoggio di tipo divino. Il Papa normalmente è una persona che canalizza i messaggi dal cielo, diciamo, e li comunica alle masse, è il traduttore, il mediatore, fa anche riferimento a quelli che sono i terapeuti di tipo spirituale, e qui c'è la giustizia divina. Quindi in un certo senso sento che avete quest'onda un po' magica, un po' mistica, che probabilmente vi circonderà in questa prima fase del 2023 e sarà grazie a questa nuova fase di studi, di ricerca. È come se qualcuno qui stesse cercando di capire come lasciare questa situazione che in realtà è un vuoto. C'è proprio bisogno di lasciarsi indietro il vuoto, di curare il bambino interiore, di esprimere la propria essenza, la propria forza di volontà. Andiamo a vedere la regina di Pentacoli e vediamo se riesco a dirvi chi è, cos'è, chi è come persona e cos'è come attitudine. Asso di spade. Quelle sono troppe. Allora, Asso di spade. Sì, è qualcuno da cui ve ne dovete andare. O un atteggiamento, un atteggiamento, un'idea, una forma pensiero. Una forma pensiero da tenere lontano, direi, con questo nove di bastoni o una persona da tenere lontano. Siccome è una lettura spirituale, sì, è vero, molte volte si vivono certe situazioni un po' troppo opprimenti che impediscono l'evoluzione, quindi è proprio necessario spostarsi fisicamente. Però in questo caso non ho carte negative. Quindi, sento più che è una vostra attitudine, sento più che è una vostra influenza, probabilmente di una madre, di un'educatrice, di un tutore, di qualcuno che magari è stato vicino a voi, magari è un parente, una zia, visto che comunque è una regina. Però qui c'è qualcuno che ha bisogno di mettere i paletti con questa persona, o di andarsene fisicamente, o di cambiare tipo di atteggiamento, cercare di fare qualcosa in modo concreto per riuscire a realizzare il proprio sogno compiuto. Qui bisogna lavorare sulla forza di volontà se volete riuscire a realizzare questo sogno compiuto. Va bene, andiamo a vedere la scansione temporale degli eventi adesso. Anche qui vi ricordo che il tempo è fluido, quindi se nei tarocchi viene fuori una determinata cosa a febbraio non è detto che per voi sia così, magari per voi succede a, che ne so, aprile, maggio e magari per qualcun altro già a dicembre del 2022, ok? Quindi ognuno poi lo applichi alla propria realtà. Andiamo a vedere. La forza un'altra volta, bene, quindi si parte l'anno con una sorta di imp... Wow! Forza e carta del sole per gennaio e febbraio direi che vi sento belli carichi, carichi nell'andare verso quello che voi volete, ok? Andiamo avanti, vediamo. La forza è una carta che parla di decisioni, parla di scelte, parla di forza di volontà, appunto. La forza di volontà normalmente è una virtù che si sviluppa prima di tutto nei confronti di se stessi. Forse solo nei confronti... Beh no, perché se lo sia nei confronti di se stessi si può anche aiutare gli altri ad avere più forza di volontà, ok? Allora, per marzo abbiamo il 5 di coppe, la giustizia al contrario e qui ce l'avevate ad aprile, quindi su 4 carte che sono uscite, 3 sono arcani maggiori, ragazzi, quindi anche qui è una stesa bella importante, ok? Poi abbiamo un 4 di coppe per maggio e la regina di pentacoli nuovamente per giugno. Allora, qui c'è qualcosa, un passo che viene fatto, ok? Con la carta della forza sento che c'è un passaggio, c'è un... come vi posso spiegare? Una presa di posizione, la carta della forza è anche una carta che ci dice che è stata effettuata una scelta con successo, quindi qui si tratta di... Guardate la carta, vabbè adesso qui il leone è stato sostituito con questo dragono, però si parla di una fanciulla che è vestita di bianco che è candida, che è pura, che riesce ad omare gli istinti animali di un leone ed è quello che riuscirete a fare voi a gennaio. Vi sento in una sorta di calma, di quiete, prima della tempesta, prima dell'esplosione del sole, della vostra essenza, il sole. Tra l'altro avete due carte che rappresentano un leone, magari prenderete contatto con un leone. con la carta del sole si parla anche di bambino interiore, si parla di protezione, si parla di quello che è, come vi dicevo, l'esprimere la propria essenza, il proprio sole, la propria luce. Si parla di espansione, prosperità e abbondanza a febbraio. quindi da un punto di vista spirituale sento che è un po' come allargare, come vi posso spiegare, sapete quando è un allargarsi, un espandersi, se qualcuno qui fa l'esercizio della meditazione della palla di luce, è esattamente la stessa cosa, è espandere piano piano questa palla di luce. Scrivetemi nei commenti se fate questo tipo di meditazione. Allora, a marzo abbiamo un 5 di coppe, ragazzi, qui c'è qualcuno che ha un senso di colpa, nutre qualche tipo di rammarico. Sinceramente non saprei dove metterlo, credo che sia una cosa veramente passeggera, può essere magari un periodo per qualcuno che non so, particolarmente difficile, non so, dimmo a vederlo poi dopo con i mini tarocchi. Ritorna la carta della giustizia, questa volta è al contrario, ragazzi, ad aprile io sento che potrebbe arrivare quel togli-metti che fa la giustizia, quindi togliere quello che non serve più può essere che qui ci sia una sorta di legame perché con la giustizia al contrario si potrebbe parlare di un'ingiustizia e potremmo anche vederle così queste due carte è interessante perché 5 di coppe è uscito prima del 4 di coppe io credo che qui il passaggio sia prima il preoccuparsi prima del tempo di qualche cosa che potrebbe succedere e siccome il pensiero crea questo cosa succede e qui abbiamo un 4 di coppe che parla di qualcuno che non vede altre possibilità energia interessante questa perché si parte belli carichi a inizio anno e poi c'è una sorta di rallentamento diciamo così andiamo a vedere con i mini tarocchi così riesco a dirvi qualche cosa di più preciso a giugno rivediamo la regina di pentacoli che avevamo sopra quindi probabilmente questa ingiustizia potrebbe avere a che fare con la regina di pentacoli di cui vedevamo prima potreste anche essere voi completamente focalizzati su voi stessi o su voi stesse andiamo a vedere la forza 3 di bastoni al contrario e 2 di coppe allora ragazzi qui manca un compromesso io credo che la forza vi dia appunto la forza di fare quel tipo di movimento quel tipo di passaggio quel tipo di avanzamento diciamo così ok perché qui con il 3 di bastoni al contrario è un po' come se non ci fosse questa questa sorta di espansione che poi sì però vediamo a febbraio e qui abbiamo un 2 di coppe che potrebbe parlare anche di nuovi incontri di qualche accordo potrebbe essere un incontro di una persona che non vedete da molto tempo magari una guida spirituale magari un amico un'amica perché comunque poi a febbraio abbiamo il sole il sole parla anche di amicizie andiamo a vedere questo sole abbiamo un 6 di spade e la sacerdotessa al contrario wow allora perché dico wow perché il sole è la carta young diciamo così per eccellenza cioè il sole e la luna sono i due rappresentativi del divino maschile e il divino femminile quindi il sole ce l'abbiamo qui e comunque la sacerdotessa è molto collegata alla carta della luna nel mondo dei tarocchi proprio perché anche lei parla di quello che c'è dentro di quello che è misterioso di quello che non si vede la luce del giorno diciamo così e quindi di tutto quello che è il mondo interno la luna parla più del lato d'ombra qua parla di tutto il mondo interno con i suoi lati d'ombra i suoi lati di luce però comunque è una carta con un'energia femminile perché capta riceve è una sacerdotessa lei canalizza e qui che cosa abbiamo il 6 di spade il 6 di spade parla di un allontanamento normalmente essendo spade si parla di idee forme pensiero credenze limitanti che riguardano probabilmente questo tipo di non appoggio che avete avuto a livello familiare perché parla sempre o di problemi familiari o di problemi legati alla madre o di credenze limitanti legati alla famiglia quindi siamo un po' diciamo per quella zona lì e sento che anche qui se guardo 2 di copp c'è yin e yang di nuovo divino maschile divino femminile sento che qui ritornerà una sorta di equilibrio ci sarà una rivalutazione perché anche l'otto la carta la forza è una carta numero 8 e l'otto numero maschile c'è anche il numero dell'infinito è un'energia di tipo maschile andiamo a vedere il 5 di coppia di che cosa si tratta abbiamo l'eremita al contrario e un 9 di pentacoli che avrei dovuto mettere al contrario perché si era tirato più a faccia in giù che a faccia in su sì probabilmente qui con queste 5 di coppia c'è qualcuno che si sente da solo perché comunque sono carte solitarie di un'energia maschile ma una energia come vi posso dire l'eremita al contrario sì è un po' l'arcano maggiore dell'otto di coppia l'energia alla fine ce l'avete lì è un po' come sentirsi da soli nel vostro cammino senza sostegno senza supporto però in realtà non è che vi sento male avete un 9 di coppia marzo un 9 di scusate di pentacoli quindi da un punto di vista pratico da un punto di vista economico vi sento vi sento bene nel senso tranquilli che godete di quello che avete probabilmente a livello emotivo potrebbe essere che vi manchi qualcosa ma perché ripeto siete un po' tanto in quello che è la fase spirituale della comprensione mentale ok c'è da riportare un pochettino giù l'energia può essere utile fare dei massaggi i piedi in questi casi allora andiamo a vedere la carta della giustizia al contrario abbiamo un'altra volta la carta del papa al contrario e il cavaliere di bastoni allora ad aprile qui si può trattare di un movimento diciamo ancora non ufficiale guardate per qualcuno mi parlano di seminario può essere un seminario proprio per diventare preti o un seminario magari di tipo spirituale ok è come se ci fosse un un posticipare questo seminario o la scelta di intraprendere questo nuovo studio qui vediamo che c'era la fase di studio di approfondimento adesso io non so se sia un nuovo percorso di studio se si approfondire la situazione con questa regina di pentacoli che potrebbe anche rappresentare voi stessi il cavaliere di bastoni è sempre una di quelle persone che agiscono i cavalieri si muovono si spostano c'è un movimento di questo asso di bastoni normalmente quando c'è la giustizia al contrario ragazzi per qualcuno potrebbe parlare di una divisione perché al dritto parla di firma di contratti e poi essendoci anche il papa che parla di ufficializzazioni o qui qualche cosa non è ufficiale perché anche qui abbiamo il papa al contrario può essere che qui qualcosa non sia ufficiale ci sia la necessità di renderlo ufficiale è come se avessi bisogno di muovervi in questa direzione nella direzione di mettere a posto i fogli ecco e credo che facendo questo movimento vi rendiate conto che se l'aveste fatto prima certe cose certi dolori certi pensieri certe pene ve li sareste risparmiati andiamo a vedere il 4 di coppe abbiamo un 9 di coppe al contrario e un 6 di denari il 9 di coppe ce l'avevate anche qui qui è al contrario ma sento che è nell'aria in effetti nella stesa diciamo nella linea principale ce l'avete come sogno compiuto e avete la forza è un po' come se vi dicessero guarda che ci vuole forza di volontà per raggiungere i tuoi obiettivi non puoi rimanere lì seduto aspettando che l'aiuto arrivi dall'alto ok oppure con quell'attitudine negativa nel vedere che le coppe sono vuote e non ci si rende conto delle altre opportunità che ci sono intorno e quindi un po' ci si accontenta mi viene da dire in realtà il 6 di pentacolo è una carta molto bella parla di equilibrio a livello monetario ma certe volte visto che comunque c'è il 9 di coppe al contrario mi fa pensare che non siate pienamente soddisfatti allora ha un po' più la tendenza del accontentarsi verso maggio però andiamo a vedere la regina di pentacoli a giugno perché secondo me qui qualche cosa potrebbe cambiare perché la regina di pentacoli è sempre una persona che è disposta ad aiutare sole al contrario cavaliere di spade sento sento questo forte bisogno di andarsene perché di nuovo il cavaliere di spade è un'energia di una persona che tende a scappare e abbiamo solo il contrario che qui mi parla di non espansione come se a giugno ci fosse qualcuno questa regina di denari da cui voi vi dovete difendere per la quale non riuscite ad espandervi scrivetemi per voi chi è la regina di pentacoli allora andiamo a vedere ancora un oracolo per vedere che altro non da dirvi per chiudere la lettura e poi andiamo a vedere una carta dei guerrieri di luce vediamo un po' vediamo quante sono troppe va bene le guardiamo dai allora ecco la prima carta madre universale e la regina di denari vi dico che molte volte fa riferimento a quelle madri molto presenti da un punto di vista pratico nella famiglia nel senso che sono persone che non fanno mancare niente in casa ma poi sono persone diciamo così un po' aride a livello emotivo e questa diciamo spiegazione giustificherebbe quel vuoto emotivo che molti capricorni sentono quella prima parte della lettura che vedevamo qua quindi ve la lascio qui poi abbiamo fiducia e qui avendo due volte la carta della giustizia vi dico che è importante avere fiducia nel destino diciamo così nell'universo c'è sicuramente qualche tipo di disegno più grande che non si riesce a vedere e poi comunque guardate vi faccio notare una cosa questa figura ha una specie di santuario qui no fidatevi anche del vostro istinto fidatevi di quello che vi dice il naso resilienza ecco qui sento che molte persone faranno ce l'ho qua sotto vero si faranno appello alla propria forza di volontà e comunque siete del capricorno e quindi voglio dire autenticità o che bella carta è la prima volta che viene fuori guardate che bei colori qui se ci fate caso sembra che ci sia l'acqua perché c'è una specie di riflesso una specie di immagine a specchio giustamente l'autenticità è proprio il guardarsi allo specchio ed essere onesti con se stessi cercate di con il 5 di coppa mi viene da dire di non fare troppo le vittime di non lamentarvi troppo e invece di rendervi conto che comunque siete in una fase di appagamento siete in una fase di percorso di crescita spirituale avete il papa è una carta di forte illuminazione di forte connessione con il divino avete anche la sacerdotessa poi abbiamo resistenza amici del capricorno qui la sento collegata con la carta della resilienza nel senso che c'è un qualche tipo di forza divina che vi sta spingendo in una direzione ma state facendo resistenza e di conseguenza sembra che sia tutto molto difficile se voi riusciste a captare quali sono i segnali vi renderete conto di qual è il percorso giusto che vi stanno accompagnando a fare che vi stanno consigliando di portando a fare wow e poi abbiamo il lavoro d'ombra quindi qui si tratta di portare a galla quelle che sono le vostre paure le vostre proiezioni si parlavano e di fare un lavoro sulle zone d'ombra lo sento anche molto collegato a questa prima parte della lettura perché molto di quello che ci può e c'era anche un 6 di spade da qualche parte c'era lo so ah è qua ok ho sempre tantissime carte ok allora vediamo qualcuno qua oh guardate tiro queste che sono anche qui abbi fiducia nella tua abilità di creare la visione nella tua anima cioè quindi prima prima vivetelo ok vivetelo siate autentici con voi stessi e vivete il tipo di sogno che volete abbiate fiducia in esso e poi abbiamo wow seme stellare aumenta la vibrazione del pianeta attraverso la tua radiante luce d'amore bellissimo messaggio ragazzi bene amici del capricorno a quanto pare molte persone qui potrebbero essere semi stellari o guerrieri di luce o qualcosa del genere quindi se qui ci fosse qualcuno grazie per il lavoro che state facendo io spero che la lettura vi sia piaciuta se si potete mettere like potete iscrivervi condividere commentare potete lasciare una donazione ogni tipo di supporto per me importante io vi auguro un inizio 2023 splendido vi mando un grosso abbraccio e ci vediamo nei prossimi video ciao ciao